Video sorveglianza, efficienti sistemi per allertare le forze dell'ordine, dispositivi come pannelli divisori per separare la postazione di guida dai sedili degli utenti. Sono gli strumenti che verranno messi in atto per tutelare gli autisti dei bus di ASF Autolinea e per garantire la sicurezza a bordo dei mezzi, dopo i recenti episodi di violenza nei confronti proprio dei conducenti degli autobus. Argomenti al centro oggi della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal prefetto Andrea Polichetti con i vertici dell'azienda, dei referenti provinciali delle organizzazioni sindacali di categoria, dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale della provincia, oltre alle forze dell'ordine. Durante la riunione sono stati passati in rassegna i punti salienti dell'intesa raggiunta nei giorni scorsi tra ASF e le parti sindacali, intesa che verte sull'implementazione delle misure di sicurezza da realizzarsi entro la fine dell'anno. Il prefetto ha rimarcato, come detto, l'opportunità che i mezzi siano dotati di adeguati sistemi di videosorveglianza, oltre che di efficienti sistemi per mettersi in contatto con le forze dell'ordine. Inoltre è stata evidenziata la necessità che ASF produca un dettagliato elenco delle linee e degli orari caratterizzati da maggiori criticità o ritenuti maggiormente a rischio, per consentire di predisporre mirati servizi di vigilanza, anche con il supporto della Polizia Locale. Il prefetto ha poi raccomandato alle organizzazioni sindacali di sensibilizzare i lavoratori affinché le segnalazioni riguardanti ogni tipo di aggressione, sia fisica che verbale, vengano tempestivamente inoltrate alle forze di polizia.